Vandali in azione a Camerota, lo schermo del lettore ottico di schede situato nel parcheggio di Piazza Mercato è stato distrutto nella notte. I responsabili del gesto restano ancora sconosciuti, anche se sul caso si è già espresso il sindaco Mario Salvatore Scarpitta. Una bravata fa sapere il primo cittadino che andrà ad incidere sulle casse dell'ente e di conseguenza sui cittadini. Abbiamo già delle informazioni, stiamo verificando se sono veritiere, riferisce Scarpitta. Sono gesti che fanno male, ma non ci fanno paura. Andiamo avanti, convinti di essere sulla strada giusta. La colonnina era stata recentemente acquistata dall'amministrazione comunale di Camerota, che ha meccanizzato due aree di sosta, quella di Piazza Mercato appunto e quella in zona Lentiscelle. Nei giorni scorsi, proprio a Camerota, vi erano state polemiche sulle tariffe dei parcheggi troppo elevate. Non è da escludere che l'episodio possa essere collegato.